vi presentiamo un mazzo straordinario di Carol Ann Eskenazi e Alexandra Bach della Nuit Lenormand unisce la raffinata bellezza della collezione della Nuit con il ricco simbolismo del classico oracolo francese creando un mazzo elegante e sofisticato benvenuti amiche e amici di youtube io sono Angela e questa è la nuova puntata della taroteca di Exoteric World prima di femminciare la visione vi ricordo che cliccando in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti e che subito dopo l'analisi delle carte ci sarà uno slideshow in cui le mostrerò tutte e 36 a tutto schermo in modo da darvi l'opportunità di apprezzarle ulteriormente magari facendo degli screenshot delle vostre preferite prima della fine della puntata potrete accedere alla playlist degli interattivi dedicati all'amore o iscrivervi al canale cliccando sul logo se avrete gradito la visione bene cambiamo inquadratura e cominciamo con la puntata mentre con me benvenuti andiamo a conoscere insieme il della noi Lenormand creato da Alexandra Bach che è proprio l'artista della grafica e poi troviamo Karol Ann Eskenazi che è proprio l'autrice del libretto stesso e del progetto e le stesse autrici hanno creato dei mazzi precedenti quindi sarebbe una specie di trittico conclusosi proprio con questo mazzo quindi abbiamo sia i tarocchi della Nui e anche l'oracolo della Nui ma partiamo adesso con queste Lenormand la scatola quindi proprio iniziando dall'analisi fisica della scatola molto bella resistente c'è questa fascia argentata troviamo questa volpe bianca e ovviamente stampato dallo scarabeo infatti troviamo i riferimenti qui in basso qui abbiamo il titolo ancora qui dietro uno spoiler sulle carte per avere una prima visione di quello che appunto troveremo all'interno e anche le lingue del libretto quindi abbiamo inglese italiano spagnolo e portoghese possiamo adesso aprire facile perché troviamo questa comoda in sé natura poi altrettanto comoda è questa linguetta questo nastrino che ci permette di sollevare tutto ciò che c'è all'interno e quindi troviamo il nostro libretto eccolo e poi troviamo il nostro mazzo sono 36 carte effettivamente come tutte le Lenormand troviamo il retro che non è reversibile quindi abbiamo questo motivo decorativo poi come vi ho detto non è reversibile effettivamente tanto in realtà non ha importanza perché di solito le Lenormand non si leggono al contrario giusto per darvi indicativamente la grandezza sia delle carte stesse troviamo una misura abbastanza grande in realtà però io avendo delle mani piccole il mazzo non è tanto spesso si riesce a maneggiare con cura consiglio sempre di mescolarle in un modo abbastanza delicato perché ho notato che col tempo questi mazzi tendono a rovinarsi proprio nei bordi e quindi perché anche il cartoncino si è abbastanza spesso però non non tantissimo finitura lucida quindi vediamo qui sia le carte che nel retro le misure sono circa 9 centimetri quindi abbiamo 8,9 per 12,6 uno spessore di circa 1,5 quasi e come avete potuto già notare dalla questa prima visione le carte non hanno i bordi quindi la figura accoglie tutta la grandezza della carta e poi ovviamente andiamo le vedremo molto meglio dopo il nostro libretto come come sempre effettivamente c'è la scelta di dare un po più di spazio nella lingua inglese in questo caso non tantissimo perché c'è solo una piccola particina in più cioè siccome troviamo di ogni singola carta la descrizione il messaggio divinatorio sia il messaggio segreto e l'affermazione ecco la parte della descrizione la troviamo solo nella lingua inglese quindi non è tantissimo si può andare a vedere c'è proprio la descrizione della della carta quindi una una breve introduzione sul sulle origini del mazzo va beh molto molto striminzita ovviamente se non lo sapete e il mazzo le norma il nome le norma è di una famosa cartomante sensitiva del diciottesimo secolo che non ha nulla a che fare con la nascita di questo mazzo ma è solo un nome dato per l'importanza di questa signora e quindi avere un riscontro economico per le vendite è avuto tantissimo successo effettivamente come si può vedere dalle tante tantissime interpretazioni e qualcosa sulla creazione del progetto dei rituali che non sono dei veri e propri rituali consiglia proprio di appena si prende il mazzo di estrarre sia una carta oppure di visionarle e di scegliere effettivamente quella che più ci scoraggia in questo caso per metterci a contatto proprio con il significato di quella carta probabilmente a un messaggio speciale per noi come utilizzarlo ci sono delle indicazioni di lettura a una carta anche a sette o più carte quindi la lettura della settimana e quella dell'anno a 12 carte quindi anche questo è molto interessante e come vi dicevo per ogni singola carta spiegazione c'è il messaggio divinatorio la domanda segreta l'affermazione quindi questo è il libretto adesso andiamo a vedere le singole carte eccoci di fronte alle prime 18 carte prima di iniziare a parlare di loro vi ricordo che alla fine troverete lo slideshow per osservarle tutte una per uno e se vi dovesse piacere questo mazzo in descrizione trovate il link per acquistarlo allora le prime 18 carte ovviamente abbiamo già parlato e visto in genere il mazzo abbiamo visto che le carte non hanno i bordi la tematica è abbastanza evidente spesso l'atmosfera notturna con queste lune giganti enormi bellissime queste lune piene tendenzialmente sì notturna forse tranne alcune alcune carte che rimanda a quell'eleganza l'atmosfera nordica fredda non nel vero senso della parola però è molto molto suggestivo e quindi come vi dicevo di ogni singola carta un'altra cosa che balza all'occhio è il fatto che non ci sia il nome della carta ma solo il riferimento numerologico non troviamo neanche il riferimento delle carte da gioco spesso soprattutto all'inizio i mazzi originali c'era sia il numero sia il titolo addirittura a volte una piccola didascalia e poi ovviamente il riferimento della carta da gioco molti scelgono di non inserirlo anche perché la lettura a volte può essere discordante tra il significato della carta da gioco e la carta stessa però diciamo in questo caso la cosa è facilitata in questo senso cioè ci andiamo a riferire solo alle interpretazioni delle singole carte in base al numero il nome ovviamente per chi è alle prime armi alcune cose si possono intuire dalle immagini stesse altre magari appunto per chi non lo conosce deve andare a studiarsene e a memorizzare ha di primo acchito effettivamente anche quando ho aperto il mazzo si conoscendole effettivamente diciamo so benissimo ogni carta a cosa corrisponde questo è vero però in alcune potrebbe farsi un po' di difficoltà proprio all'inizio però diciamo che poi conoscendole meglio anzi suggeriscono ulteriori significati ma questo poi lo vedremo in seguito troviamo quindi qui facile da intuire il cavaliere poi troviamo il quadrifoglio bellissimo rappresentato con questo gioiello fatto a quadrifoglio con questa bella cornice dorata su un letto di trifogli o comunque quadrifogli la nave e il battello atmosfera un po' turbolenta questo è vero qui troviamo nel cielo si intravede come se fosse una mappa qualcosa che va a indicare comunque l'inizio del viaggio si intravede anche questo non dico tornado però può sembrare una cosa del genere abbastanza inquietante nel senso che ok c'è ci sono delle difficoltà però è il caso appunto di intraprendere questo viaggio anche se sarà difficile però appunto poi porterà soddisfazioni in seguito almeno è quello che mi rimanda come interpretazione magari voi ditemi la vostra poi troviamo la casa la casa direi che è molto molto bella molto ricca in questo caso abbiamo un bel maniero troviamo l'albero l'albero è molto simpatica l'idea questo albero enorme può essere centenario con questa casina che può sembrare che vada ad accogliere un folletto e troviamo le nuvole ecco qui dicevo come appunto precedentemente accennato che alcune volte può essere un po' difficile rintracciare perché l'occhio va subito a queste che sembrano essere delle rovine e quindi poi ovviamente se uno non guarda il numero di riferimento ci si arriva successivamente però non è assolutamente una difficoltà diciamo anzi rispecchia proprio il significato delle nuvole perché probabilmente è vero ci sono delle complicazioni c'è un momento di confusione però c'è l'apertura verso quello che si intravede qui appunto la luce e dietro questo pallido sole vediamo adesso continuiamo con numero 7 qui abbiamo il serpente bellissima questa secondo me almeno per me la carta più bella di questo mazzo molto particolare la carta della bara ovviamente si vede la bara in questa silhouette intorno a questa bellissima signorina la scelta di rappresentare la bara in questo modo a me piace tantissimo c'è questa signorina che effettivamente sta osservando sta scrutando questo teschio sembra quasi affascinata probabilmente ecco a me dà la sensazione di riflettere, analizzare, osservare una paura, un qualcosa che in questo momento magari non ci permette di andare oltre però l'inizio della trasformazione insomma è già in corso è già in atto appunto lo vediamo da questo alone da questa parte più chiara che appunto va a individuare questa silhouette della bara bellissima per me è bellissima troviamo il bouquet poi troviamo la falce anche qui una di quelle carte è un po' meno evidente ok si vede questa lama questa figura oscura pronta a tagliare con la sua falce quindi in questo caso ecco c'è un'ulteriore interpretazione rispetto alla carta originale perché di solito troviamo dei covoni di grano se è vero indica la difficoltà un taglionetto un qualcosa che va a concludersi anche il lavoro stesso quindi con possibili soddisfazioni eccetera eccetera in questo caso è vero è abbastanza inquietante perché questa falce è pronta a colpire questa fanciulla oscura che sta osservando ignara scusate che sta osservando dall'altra parte troviamo questa scelta nella scopa alla frusta con questa strega che sta volando negli uccelli troviamo le gazze e infatti sembrano che stia parlottando tra di loro la fanciulla o la bambina con i suoi doni e la sua felicità questa bellissima volpe bianca la troviamo anche come in copertina l'orso bianco la stella ecco anche qui effettivamente se uno non vede il numero di primo acchito vede questa fanciulla con questo bellissimo albero di natale però poi insomma osservandola meglio si può vedere la stella e quindi non c'è lo stellato in questo caso ma una scena dove effettivamente può dare anche la sensazione di felicità di speranza e anche di nuovo inizio poi troviamo la cicogna e questo bellissimo aschi ecco qui il cane e adesso proseguiamo e andiamo a conoscere le altre 18 carte ed eccoci di fronte alle ultime 18 carte quindi seconda parte di questo mazzo troviamo la torre molto bella affascinante il giardino in questo caso si dà proprio la sensazione di pace rispetto ad altri mazzi a me richiama un po' di più l'attenzione sulla natura sulla ricerca interiore sul fatto appunto di connettersi con una parte di noi che potrebbe essere nascosta sì perché è proprio l'atmosfera che mi dà questa sensazione quindi un po' diversa rispetto alle altre classiche interpretazioni e poi ovviamente troviamo un iceberg una cosa enorme che fa da montagna quindi da grande ostacolo anche qui potrebbe esserci un ulteriore di significato essendoci ed essendo fatto di in gran parte di ghiaccio potrebbe sciogliersi e quindi anche automaticamente l'ostacolo che si frappone tra noi il nostro percorso a proposito di percorso poi troviamo il sentiero anche qui molto scuro quindi forse come a voler dire che ci troviamo in uno stato è vero di incertezza di confusione ok possiamo intuire intravedere il nostro sentiero il nostro percorso però siamo ancora in una fase iniziale o di incertezza quindi bellissima interpretazione poi troviamo i topi molto carini però effettivamente abbastanza fastidiosi perché in questo caso possono dare proprio fastidio a questo rituale dove troviamo il calderone le candele accese quindi c'è un qualcosa in corso che si sta facendo e loro arrivano a a disturbare e poi troviamo questo bellissimo cuore quindi enorme tante rose messe insieme l'anello il libro o il diario in questo caso aperto spesso troviamo lo troviamo chiuso e in questo caso si può trattare proprio di conoscenza che è aperta a noi alla nostra portata di mano anche se troviamo quello chiuso quindi nell'interpretazione consiglio sempre di guardare la carta e di osservare proprio la prima cosa che balza all'occhio probabilmente quell'elemento ha un'indicazione e un messaggio per noi quindi sia l'occhio mi è saltato proprio sul libro chiuso vuol dire che probabilmente devo scoprire ancora qualcosa e invece al contrario che la conoscenza ce l'ho devo solo cercare di metterla in moto e poi di applicarla al momento giusto abbiamo la lettera e anche questa molto molto bella poi troviamo in questo caso anche nel libretto comunque c'è l'uomo e la donna qui sembrano osservarsi molto carino molto romantico di solito magari la dicitura è gentiluomo gentildonna o dama ma quindi il significato non cambia assolutamente il giglio e qui troviamo proprio parecchi gigli insieme su questo altare e poi troviamo in questo caso la sirena la sirena che come vi dicevo in alcune carte è un po' difficile individuare subito il il principale soggetto in questo caso cioè se io non vedo appunto il numero perché lo riconosco dal numero però se non lo vedesti vedo questa sirena e poi ovviamente si vede il sole dietro di lei quindi questa è la carta del sole la luna dove ci sono questi delfini questo delfine che sta saltando la chiave in questo caso il pesce o pesci perché se ne vede uno che salta fuori e altri due all'interno anche qui l'interpretazione potrebbe variare tantissimo e in questo caso troviamo dei salmoni questo salmone poi l'ancora e la croce in questo caso una croce celtica e come avete potuto notare da quello che ho detto queste carte possono essere lette sia secondo la tradizione però secondo me mazzi perché troviamo mazzi effettivamente che si rifanno quasi totalmente alla tradizione vanno ad interpretarla solo da un tema diverso oppure uno stile un qualcosa diciamo di particolare però si soffermano e rimangono nella tradizione invece mazzi come questi la reinterpretano la vanno ad arricchire quindi un mazzo consigliato assolutamente a tutti quanti certo per i neofiti per chi inizia come vi ho detto qualche difficoltà potrebbe esserci soprattutto nell'identificazione però ci si trova il numerino se uno non sa va a vedere nel libretto e man mano man mano si prende conoscenza e di mistichezza quindi è un ostacolo superabile poi soprattutto molto consigliato per chi ama effettivamente l'Ele Norman e vuole arricchire le proprie interpretazioni osservando le immagini e lasciarsi proprio cullare e prendere dalla simbologia dai vari elementi che sono all'interno e quindi essendo abbastanza ricchi e coinvolgenti si possono trovare tante altre ulteriori informazioni appunto da inserire nelle proprie letture e poi anche a livello grafico artistico è molto bello quindi assolutamente da avere in collezione si conclude qui la puntata vi ringrazio per avermi seguita se volete potete seguire tutte le altre puntate o tanti altri video che ho sul mio canale se volete potete seguirmi anche su Instagram grazie di nuovo a tutti alla prossima ciao 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 ciao